ciao claudio come ti avevo promesso un video a settimana sono quattro settimane quindi questo il quarto video oggi mi prendo un po di riposo perché ho capito che durante la settimana faccio troppe cose e non sono stata bravissima col protocollo vedremo i risultati settimana prossima dopo quattro settimane si inizia a sentire un po la sofferenza però procediamo senza avere date di uscita e sono due settimane che non fumo reggo bene reggo bene quello devo bere e fare yoga per non fumare ho capito questa cosa qua e consigli per la settimana a venire trovare sempre un gioco da fare per distrarsi questa è la mia nuova iniziativa il weekend ho sistemato il balcone ho sistemato il pesce perché oltre al gatto ho anche un pesce e due figli e sistemato un tavolino dipinto un tavolino da qua è tutto proseguiamo con calma ci vediamo al passaggio protocollo ciao buona giornata